Un cordiale saluto gentili telespettatori e ben trovati al nostro appuntamento un caffè con. A prendere un caffè oggi con noi è Franco Vaccari, fondatore, presidente di Rondine Cittadella della Pace, educatore, psicologo, editorialista, insomma di cose ne fa veramente tante. È una persona conosciuta anche alla nostra emittente quindi non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Con lui si può parlare di tante cose, di tutto si potrebbe dire, però da qualche parte bisogna partire. Se sei d'accordo partiamo da un premio, il premio Minerva che ti hanno dato il Campidoglio a Roma. Mi hanno detto che tra l'altro eri l'unico uomo. Non so perché c'è un motivo oppure… Sì c'è un motivo, c'è un motivo. Quando mi hanno telefonato dice sarai l'unico uomo. Ma perché? Perché è un premio istituito dalla Mammoliti 25 anni fa per le donne. Le donne eccellenti, le donne che si distinguono in vari ambiti, delle professioni, dell'arte, della cultura e che da sette anni però hanno deciso di fare una quota azzurra, l'incontrario. E quindi di cercare anche un uomo che secondo i loro criteri è meritevole del premio. Meritevole di quello che hai fatto per la società. Sì, dice di sì. Il titolo è un po' altisonante. Quando me l'ha andato io devo dire sinceramente che credevo che l'amico che mi ha telefonato si fosse messo d'accordo per fare uno scherzo. Siamo toscani, siamo un po' burloni. Però invece era una cosa da seria e mi ha riempito di grande soddisfazione che non è una soddisfazione solo personale ma è per tutto il mondo di Rondine. Perché poi è stato dato a me ma è stato dato a Rondine a quest'opera che ha stupito la giuria e insomma ha trovato un voto unanime per darlo. Quindi complimenti per questo premio. Grazie. Poi è una buona scia. Prima Pertini, Cosfiga, Padre Pizzaballa. Insomma ci sono le benomine. Una buona compagnia. Sei finita in quest'albo d'oro. Sono l'ultimo arrivato di questa fila. Impostante. Però di cose negli ultimi tempi ne sono accadute diverse, importanti proprio per Rondine. Direi forse una delle principali è stato l'incontro che avete avuto a Bruxelles in occasione dell'anniversario, il centenario della prima guerra mondiale. Però ovviamente voi andate non a celebrare l'anniversario di una guerra ma a celebrare l'inizio di un cammino per la pace. Perché non si ripeta più ovviamente l'errore della guerra. Ecco, ma raccontaci un po' Bruxelles. Ma sì, questa è stata l'individuazione bontaloro delle istituzioni europee, italiane, ministero, presidenza del Consiglio, che hanno individuato in Rondine proprio il modo, come dicevi tu, di uscire da questa secca. Cioè, celebrazioni, memoria, commemorazioni, si finisce sempre soltanto per rimettere in ordine i cimiteri e i sacrari, cosa fondamentale, i luoghi della memoria. Ma poi, no? E soprattutto come coinvolgere le nuove generazioni dentro una vicenda sentita tanto lontana, cento anni fa, no? E quindi ha chiamato Rondine proprio perché Rondine che cosa fa? È stato chiarissimo sulla Bruxelles. Ha portato i pronipoti di quella sciagurata guerra, i pronipoti, perché sono i pronipoti che hanno avuto questo dramma, che ancora scontano sulla loro pelle il dramma di quel colpo maledetto di pistola di Sarajevo e di tutte ovviamente le dinamiche storiche che lo portarono, che però decidono di cambiare. Decidono di dire basta a questa logica di cento anni di baratro, di sangue e cambiamo. Da dove si comincia? Si comincia da dove è possibile? Da me stesso. Da me stesso. E questo sembra una cosa semplice, ma portata nella sede del Parlamento europeo, di fronte ai vicepresidenti, di fronte alla Mogherini, al rappresentante, altro rappresentante della politica estera europea, che ha fatto centro, perché i nemici che si parlano davanti, l'Azerbaijana e l'Armena, il palestinese e l'israeliano, che si parlano e dicono Europa svegliati. A proposito di Europa svegliati, dopo di te un altro personaggio, non ti faccio torto se dico un po' più importante, diciamo si è recato nell'altra città simbolo dell'Europa, ovvero Strasburgo, quindi l'altra sede del Parlamento europeo. Quindi mi riferisco a Papa Francesco. Ecco, come ti è sembrata questa scossa, questa sveglia che il Papa ha dato? Davvero l'Europa è questa vecchia un po' addormentata che ha bisogno veramente di essere svegliata? Sì, io uso sempre un'immagine per noi chiarezzo, quando vengono i nostri amici dal mondo li porto a vedere gli affreschi di Pietro da Francesca e per me è un grande dono questo, perché mi riapproprio della bellezza che ho nella mia città. Se non viene lo straniero, non ci riappropriamo dei doni. Allora, Rondini ha fatto questo al Parlamento europeo, ha portato gli stranieri a dare un sobbalzo nella coscienza degli europei del grande dono che abbiamo e quindi a caricarli di responsabilità. Il Papa, in maniera autorevolissima, ha fatto questo chiaramente. Noi, in maniera modesta, siamo andati prima con questa forza della giovinezza che non si rassegna a che la guerra sia così, che esista un destino, ma che tocca la responsabilità di ognuno e vede che tanto possiamo fare. Siamo andati in buona compagnia anche noi, avevamo il Cardinale Bassetti, avevamo Cucinelli, avevamo la nostra testimonia, il Noah, che è venuto apposta da Israele per dare sia nella tavola rotonda, poi nello spettacolo nuovo che abbiamo lanciato, dissonanze in accordo, la sua forza artistica. Ecco, Rondine, lo sappiamo, ovviamente ospita studenti che provengono da paesi in cui sono in corso dei conflitti, anche paesi in contrapposizione appunto, quindi ospitate questi studenti, però so che c'è un'iniziativa, non so se è partita, deve partire, il quarto anno di eccellenza, se non sbaglio è definito così. Partano al liceale. Liceale, quindi coinvolgete in questo caso studenti italiani. Sì, perché Rondine non lavora propriamente sullo scenario internazionale, ci lavora, ma perché l'interesse di Rondine è un interesse, una parolona si può usare anche se siamo al bar, insomma a prenderci un caffè, antropologico, cioè la questione del conflitto. Noi lavoriamo sul conflitto, cioè noi vogliamo vedere se con una nuova cultura del conflitto, il conflitto anziché distruggerci ci fa crescere. Questo è il tema di Rondine. Allora lo vogliamo vedere anche in ambito italiano e abbiamo fatto una quarta liceo, una classe dove ospiteremo un giovane da ogni regione italiana e dai luoghi frontiera, quindi dall'Interland milanese, dalle zone di Mestre, ma anche dalla Locride o dalla Sardegna dimenticata o dall'Interland di Napoli, ma anche dalla nostra Toscana e quindi soprattutto lasciamo dei posti in questa classe meravigliosa, unica nel panorama italiano, lasciamo dei posti per giovani che quest'anno frequentano la terza liceo e che quindi vorranno frequentare la quarta liceo l'anno prossimo a partire dal primo settembre, posti per giovani toscani e in modo particolare per Arezzo, perché la dinamica di Rondine è questa, offrire al proprio territorio una risorsa e un'opportunità che altrimenti non ci sarebbe. So che avete inaugurato anche dei nuovi spazi a Rondine. La vecchia scuolina elementare l'abbiamo ristrutturata e ospiterà, sarà di nuovo scuola dopo tanti anni di abbandono, sarà nuova scuola ma una scuola del terzo millennio, una scuola che mette insieme i migliori giovani a Rettini, Toscani e di tutta Italia, ma sono collegati ai giovani internazionali, quindi attraverso delle relazioni concrete, volto a volto, i giovani diciassettenni si aprono a un universo internazionale mondiale sui grandi temi della guerra della pace, della speranza e del dolore, quindi è un'operazione che apre il cuore e la testa a questi ragazzi in un'epoca in cui i valori devono essere direi mangiati. Ecco a Rondine contano ovviamente le persone, le presenze, però è anche vero che chi non la conosce è anche molto bella, anche da vedere proprio per le strutture, questo volgo che voi avete ristrutturato, quindi è bella anche proprio da vedersi venendo a visitarla o anche da fuori quando si passa con il treno si vede questo, grazie. Sì, sì, infatti ogni anno abbiamo qualche decina, poche decine di persone che vengono incuriosite e dicono ma è qui quel posto che si vede dal treno passando, quindi c'è anche questa parte qui interessante, non è quella principale, ma è simpatica, anche l'occhio vuole la sua parte. Poi noi non siamo contro il ponte della ferrovia, quelli che vengono si dividono subito in due categorie, peccato quel ponte, bello quel ponte, noi siamo del partito bello, anche se abbiamo sofferto il nostro conflitto quando l'hanno costruito, perché era una valle incontaminata, però ci ricorda che non siamo lontano dalla civiltà e il che Rondine vuole stare nel cuore della città, idealmente e culturalmente, non vuol stare in un eremo nella campagna toscana. Quindi mentre rinnoviamo questo invito, in ogni caso anche a visitare Rondine, anche per questo aspetto, ritornando ai ragazzi stranieri, avete da poco concluso un'altra iniziativa importante che è quella che riguarda la cosiddetta sponda sud del Mediterraneo, ovviamente un corso di formazione per giovani che si spera poi possano prendere in mano le redini del proprio paese e contribuire ad uno sviluppo nella pace, questo è un po' il senso, ce lo puoi spiegare? Sì, abbiamo lavorato per tre anni, abbiamo investito in modo immediato e anche un po' udace su quella che veniva chiamata la primavera araba e abbiamo avuto così la possibilità di seguire l'evoluzione di questo fenomeno che è al di là delle etichette che si danno, però è un fenomeno in rapida trasformazione e scegliendo giovani di particolare valore inseriti nel mondo sociale, accademico, culturale, civile dei loro popoli, ci hanno dato ogni anno il termometro di quello che succedeva, impresa diretta al di là delle deformazioni, delle lenti del giornalismo e dei media. Abbiamo raccolto un bellissimo patrimonio, abbiamo varie decine di giovani ormai dentro il mondo del lavoro, noi tocchiamo sempre quella fascia di età lì, alcuni proprio di grande valore che adesso stiamo ragionando a come non perdere questa rete e investirla in qualche progetto nuovo. Anche questo ci piacerebbe che il nostro territorio cogliesse sempre di più le opportunità che abbiamo qui a portata di mano nella conoscenza diretta di queste persone. Senti, tu l'ho detto in apertura, ovviamente a parte che segui da vicinissimo quello che succede nei paesi, soprattutto anche nei paesi del Medio Oriente, però sei anche un osservatore attento dei fatti internazionali. Ecco, come giudichi, come leggi questa vicenda del cosiddetto Stato Islamico, cioè quello che sta accadendo, anche i gesti estremamente ferati, queste tagliagole, come leggi queste vicende? È un'evoluzione del fenomeno di Al-Qaeda che ha messo insieme una cultura arcaica con la più moderna tecnologia e con intelligenza brillante appresa nei nostri college in occidente, ha messo a servizio di questa causa scellerata questo mix di forte comunicazione e di impatto. Dobbiamo saperlo, voglio dire, le gole vengono tagliate da anni e le persecuzioni avvengono da anni e che c'è un movimento di questo genere lo sappiamo, ci siamo lasciati passare soprattutto, abbiamo dato retta allo scontro di civiltà, abbiamo fatto finta che si fossero risolte le cose, abbiamo creduto che fosse possibile esportare la nostra democrazia, abbiamo creduto una serie di cose scellerate, quando bastava un po' l'antico adagio sapere che i libri si scrivono al Cairo, si pubblicano a Beirut e si leggono a Bagdad per dire che non è un mondo privo di cultura, è un mondo che vive grandissimi slanci anche culturali fortissimi, però è attraversato dall'impatto e dall'incontro con la modernità. come l'abbiamo avuto noi, come lo abbiamo ancora noi oggi, quindi ci sono questi movimenti enormi. Detto questo direi che noi dobbiamo rilanciare modelli culturali di cooperazione al di là di quelli dello scontro. Per esempio il Papa fa un'opera meravigliosa anche in quest'ultimo viaggio che ha fatto, di chiamare i leader musulmani. in Turchia, quindi l'incontro con la Turchia, con questa realtà sulla quale noi europei ci siamo potuti permettere di fare gli schizzinosi e che poi a un certo punto, presi dalla loro grande era, hanno pensato di poter fare loro, quelli che si toglievano i sassolini e le scarpe, ma si sono presi una botta da un milione di profughi dalla Siria che devono gestire insieme con noi, altrimenti salta il banco. Il Papa va e fa un'operazione bellissima, chiama con sé i leader musulmani. L'imam del Cairo, dell'Egitto, uno dei più apprezzati, ha subito risposto e sconfessa il terrorismo. Non c'è terrorismo che possa avere matrice religiosa. È un'appropriazione indebita, è un'appropriazione criminale e sconsiderata. Noi anche a livello locale abbiamo dei leader meravigliosi, abbiamo il Sir e il Sirin che è sempre al fianco delle nostre azioni. Quindi abbiamo sempre più questo modo crescente, dobbiamo però capire che l'Islam vive il suo terrore all'interno. Parlare non è semplice, rompere e uscire con una voce dal coro non è semplice. C'è una rete di delazione e di denuncia formidabile. Quindi bisogna sentirsi insieme in una comune battaglia di civiltà, non far mai prestare il nome di Dio a nessuno, per nessuna violenza. Dio è misericordia e pace. Non può essere mai nessuna forma di violenza. E comprendere la fatica di questi popoli, mentre anche noi siamo nelle nostre fatiche. Certo. Visto che hai tirato fuori il tema di Dio e ci stiamo avvicinando a Natale, ovviamente un pensiero non può non andare alla Terra Santa e ovviamente al conflitto israelo-palestinese. Tu fra l'altro hai sempre ospitato giovani provenienti sia da Israele che dalla Palestina. Ricordavi l'incontro anche con Noah a Bruxelles che è israeliana. Come vedi la situazione in Terra Santa al momento? Ogni tanto c'è un riacutizzarsi del conflitto, ogni tanto si avverte dei momenti, sembra che le cose migliori e poi adesso anche lì è cambiata la forma degli attentati. Non è vero che è sempre tutto uguale. Questa percezione è un po' depressa, che tutto è uguale, che nulla cambia. Non è vero, sta cambiando lo scenario, sta cambiando il sentimento, le nuove generazioni stanno cambiando i loro sentimenti. Io credo molto in questo lavoro che facciamo noi e tanti altri con noi della società civile, del people to people, della gente che si incontra. Una delle testimonianze nel nostro spettacolo, che spero si possa far presto ad Arezzo, dissonanze in accordo, l'abbiamo portato in giro per il mondo, ancora deve venire ad Arezzo, è la testimonianza di un ragazzo israeliano che dice ironicamente lavoravo per la pace, da vent'anni credevo nella pace, ma non avevo mai incontrato un palestinese. La prima volta che l'ho toccato a 24 anni, a 2000 km di distanza, a Rondine. Ma non è un caso isolato, questa è la condizione. Quindi se ci pensiamo un attimo è orribile e paradossale. Ci si odia generazioni intere e neanche ci siamo toccati. Non sono conosciuti che già hanno un obiettivo enorme, ma neanche toccati fisicamente. Cosa vuol dire questo? Che qui c'è da lavorare. Insieme agli sforzi della politica e della diplomazia c'è da lavorare delle società civili. E ci sono gli obiettivi minimi e semplici. Toccarsi, incontrarsi, conoscersi. Sono obiettivi universali, senza tempo, dobbiamo crederci. Proprio perché sono le cose più semplici, rischiamo di non crederci. Poi quando ci manca l'aria, ce ne accorgiamo. Ma l'aria è il fondamentale. Incontrarci, conoscerci, stare insieme è il fondamentale di ogni relazione umana. Quindi anche per la Terra Santa è questo. Dobbiamo investire di più su questo. Perché sono impauriti reciprocamente. E il Natale, credo che uno dei grandi messaggi del Natale, è che il Dio di Gesù Cristo viene bambino per non farci paura. Quindi questo è anche il messaggio col quale possiamo chiudere senz'altro questa nostra conversazione. Ovviamente è sempre un piacere incontrarti, ragionare di queste questioni. Quindi avremo opportunità anche di farlo prossimamente. e intanto ti facciamo gli auguri non solo per il prossimo Natale, ma anche per tutta l'attività importantissima che fai con Rondine Cittadella della Baccia. Anche a voi, alla vostra attività. A presto.